Gentili telespettatori, buona giornata. L'Ischlein è famosa per dire molto spesso delle frasi e delle cose senza senso, che sono dovute da una parte alla sua mancanza di conoscenza degli argomenti, delle cose, della cultura generale, e da una parte la volontà di raccontare delle frottole per tentare di contrastare il governo Meloni. Quindi mancanza di conoscenza degli argomenti, più volontà di raccontare frottole, quello che dice l'Ischlein ogni volta è una cosa veramente grottesca. Per esempio, oggi ci viene a dire che il decreto sicurezza è contro le libertà individuali e collettive. E come? Il decreto legge sicurezza è quel decreto legge che al suo interno ha, ad esempio, sette anni di carcere per chi occupa una casa. finalmente ha il carcere eventuale per le borseggiatrici, i borseggiatori. Finalmente! E per l'Ischlein, invece, è contro le libertà individuali e collettive. Cioè, se non traduco male, è dispiaciuta che chi occupa una casa vada in carcere. Quindi è contro la libertà di occupare una casa. Ah, già, vi ricordate che anche il PD non pagava gli affitti? Che aveva un debito esorbitante di affitti non pagati? Ah, capisco, capisco, capisco. Certo, occupare una casa non è non pagare l'affitto, però più o meno siamo su quella strada lì. Capisco che lei possa vedere il carcere per chi occupa una casa come un qualcosa contro la libertà individuale di occupare le case. Contro la libertà collettiva di occupare tante case? Bene. E così la grande segretaria del PD, Elena Dettaelli, contesta il decreto di legge sicurezza. Io vorrei dire a Elena Dettaelli, guarda che non è che devi per forza dire qualcosa. Far passare il concetto che tutto quello che fa il governo è sempre sbagliato ti fa perdere totalmente di credibilità. Perché un'opposizione seria dice questo va bene, questo va male, questo va migliorato. Quando tu dici che tutto è sempre sbagliato non sei credibile. Non sei credibile. Anche perché, sapete come si dice, anche un orologio rotto due volte al giorno segna l'ora corretta, no? Le 10.10, per esempio. Se un orologio è fermo sulle 10.10, due volte al giorno, la mattina e la sera segna l'ora corretta. Quindi è impossibile che un governo possa fare tutto sbagliato o tutto giusto. Quindi semplicemente non è credibile questa donna, assolutamente. Secondo lei invece questo decreto legge sicurezza, solo la parola sicurezza, lei dice sicurezza, mamma mia che paura, sicurezza. Perché volete la sicurezza in Italia? Non state bene nell'insicurezza? Non è bello essere derubati di una borseggiatrice che poi non possono arrestare perché è sempre in attesa di un figlio? Non è così bello comprare una casa che poi te la occupano e nessuno li fa uscire perché poverini? E che beh, insomma, vogliamo togliere queste gioie agli italiani? E insomma, non scherziamo. Vogliamo togliere il piacere di occupare la casa di qualcun altro? O di rubare un portafoglio in metropolitana senza conseguenze? Eh, insomma, lei interviene e dice che questa legge è contro le libertà individuali e collettive, reprime il dissenso e punta a creare sudditi. La legge, il decreto sicurezza crea dei sudditi, no? I sudditi di sua maestà, la regina Giorgia Meloni secondo Schlein, no? Diciamo che questa Schlein vede cose, vede cose e parla con gente. Allora, mentre lei vede cose, io posso immaginare che reprime il dissenso e quando in questa legge c'è scritto che se tu ti metti in mezzo all'autostrada e blocchi il traffico, vai in galera. Perché stai bloccando un servizio pubblico. Immaginatevi che voi avete il colloquio della vita. Finalmente, dopo mesi che mandate curriculum, vi risponde un'azienda per un colloquio fondamentale, per un lavoro che vi piace tantissimo. Avete l'appuntamento, vi siete tutti allecchettati, siete tutti preparati e state andando al colloquio in macchina sulla tangenziale romana e trovate quattro babbei che si sono messi lì per terra per non farvi passare, no? E magari, non presentandoti al colloquio, gli intervistatori dicono, beh, se uno già al colloquio arriva in ritardo e poi ci tira fuori la scusa degli ecologisti sulla tangenziale, cerchiamone un altro. Perché comunque sia, se già al colloquio questa è la presentazione. Ecco, immaginatevi voi perdere il lavoro dei vostri sogni perché ci sono quattro babbei sulla strada. Ecco, giustamente che vadano in carcere per fermare, per limitare la mia libertà di andare a un colloquio, di andare in una stazione a prendere una persona che arriva col treno, di andare a comprare qualcosa in un supermercato perché sta per scadere l'offerta, per andare... Ecco, quelli che si mettono sull'autostrada a bloccare la strada stanno limitando la libertà delle altre persone. Invece la Schlein ci racconta che se tu vuoi mettere in galera quelli che bloccano e impediscono la libertà degli altri, sei tu che impedisci la libertà di poter bloccare la libertà di altri. Aiuto, Elena, Elena, Elena. Ma cosa caspiterina vai a raccontare in giro? Però, poi, il decreto legge che crea sudditi è fantastico, crea sudditi, solo che i sudditi sono solo nella mente, di Elena detta a Ellie. Nella sua mente ci sono tutte queste cose strane. E poi dice, e il pan-penalismo, eh? Il pan-penalismo l'ennesima potenza, affronta ogni problema con un nuovo reato e nuove aggravanti senza mettere un euro per rafforzare davvero le politiche di sicurezza urbana e di coesione sociale, colpisce soggetti fragili. Eh già, quando metti una borseggiatrice in galera colpisci proprio un soggetto fragile, caspiterina. Quando c'è uno in mezzo alla strada che blocca il traffico e lo porta in carcere, caspiterina, mi colpisci soggetti fragili. E infatti dice, colpisce soggetti fragili come donne che sono in attesa di un figlio, bambini costretti al carcere. Non è vero. Non sono bambini costretti al carcere. Assolutamente no. La borseggiatrice con figlio al seguito non va mandata in carcere. Va in una casa che è diversa dal carcere, dove ovviamente tu non puoi andare via. Devi stare in quella casa con altre mamme a scontare la pena, perché se no il giorno dopo o il pomeriggio stesso sei di nuovo in metropolitana a rubare il portafoglio agli italiani. Ecco, secondo la Schlein, i bambini costretti al carcere. Aiuto, aiuto. Ma il problema non è la Schlein che dice queste cose, è chi li vota, queste persone. Come fate a votare un personaggio così? Voi che vi credete tanto superiori agli altri, quelli che hanno studiato. Ma scusate, voi che avete studiato, voi che avete i titoli, ma votate per una persona, un politico di questo calibro, di questo rango superiore? Arrivederci a tutti e grazie. Grazie.